Ciao a tutti e ben ritrovati! Qual è la nostra prossima fermata? L'eremo di Santa Caterina del Sasso, sul lago Maggiore. Hi everybody! Our next stop, the heritage of Santa Caterina del Sasso, Lake Maggiore, Italy. L'eremo di Santa Caterina è nella mia lista dei 10 migliori luoghi da vedere sul lago Maggiore. The Hermitage of Santa Caterina is in my top 10 things to see on lago Maggiore. È un luogo molto particolare in quanto incastonato nella roccia affacciato direttamente sulle acque del lago Maggiore. It is an extraordinary place, as it is set in the rock, directly overlooking the waters of Lake Maggiore. L'eremo di Santa Caterina del Sasso si trova sulla sponda lombarda del lago Maggiore, a pochi chilometri da Laveno. The Hermitage of Santa Caterina is a few kilometers from Laveno. Come arrivare all'eremo? How to get to the Hermitage? Hai due opzioni, in auto o in battello. You have two options, by car or by boat. Se scegli l'opzione dell'auto, devi sapere che una volta parcheggiata la macchina, devi poi scendere una lunga scalinata di 268 gradini, che poi devi anche risalire al ritorno. A pagamento c'è comunque la possibilità di prendere l'ascensore. L'opzione migliore per arrivare all'eremo di Santa Caterina è comunque in battello. Molta della bellezza, fascino e particolarità dell'eremo è apprezzabile proprio mentre lo servi dal lago. Much of the beauty, charm and the uniqueness of the Hermitage can be appreciated when you observe it from the lake. Puoi prendere il battello per l'eremo di Santa Caterina da diverse località, da Laveno, Stresa e Verbagna Pallanza, per esempio. You can take the boat to the Hermitage of Santa Caterina from different locations, from Laveno, Stresa and Verbagna Pallanza, for example. Ma la cosa domanda a fare, è un'latà Una volta arrivati all'eremo la visita non richiede molto tempo, i suoi elementi principali sono un porticato, un cortile ed una chiesetta. Once you arrive at the Hermitage, you don't need a lot of time to visit it, its main elements are a portico, a courtyard and a small church. Qual è la storia dell'eremo di Santa Caterina? Puoi leggere alcune note storiche ed altre informazioni nei sottotitoli, mentre ci godiamo ancora alcune immagini dell'eremo. You can read some historical notes and other information in the subtitles, while we still enjoy some scenes of the Hermitage. Grazie a tutti! 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 Come vedi la nostra visita è terminata, a questo punto ti saluto, ciao ed alla prossima avventura! As you can see how our visit is over, at this point I greet you, bye and see you on the next adventure! Oh, 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 oh! Grazie a tutti. Grazie a tutti.